Pillon, io direi di partire dal primo tempo dove oggettivamente il Lecce vi ha messo in grandissima difficoltà. Chiedo, tattica o fisica? Perché correva molto, molto di più il Lecce. No, noi abbiamo corso male, non abbiamo avuto contrasti a livello individuale, li abbiamo subiti molto. Ha giocato meglio di noi, hanno vinto meritatamente. È un periodo che non stiamo facendo le cose per bene, perciò questo è da analizzare molto attentamente e cercare di pensare già alla partita che abbiamo subito mercoledì. E' chiaro che la prestazione non è stata buona, non siamo contenti, non sono contento, perciò dobbiamo vedere perché succedono queste cose qui. Secondo lei a freddo più a caldo, più tattica la questione o più fisica? L'atteggiamento, al di là della tattica abbiamo provato due soluzioni, ma al di là di questo è con l'avemenza che avevano loro di più di noi. Loro avevano più caratterialmente, più contrasti nei duelli, li hanno vinti e noi siamo stati un po' in balia da questo. Allora le chiedo perché mentalmente il Pescara non è più libero come inizio anno? È andato male da porsi questa, può essere che è un momento no, può capitare, è un momento di difficoltà e dobbiamo superarlo perché abbiamo l'obiettivo dei play-off, dobbiamo cercare di recettare quello perché sarebbe buttare via un anno. Brugman trequartista primo tempo, 3-5-2 nel secondo tempo, il Lecce che ha rallentato la pressione nel secondo tempo o meglio il Pescara con questo nuovo sistema di gioco? Forse li abbiamo limitati sulle corsie esterne, noi li abbiamo sofferto nel primo tempo, facendo così li abbiamo limitati un po', però non siamo stati propositivi in avanti. Nel primo tempo abbiamo avuto due palle goi che potevamo rimettere in piedi la partita, invece così è stata difficile. L'ultima, se vuole mandare un messaggio al tifoso che è in codice rosso in ospedale. No, mi dispiace molto, a di là della partita, questo è l'aspetto più negativo, che per una partita di calcio si sentono ancora queste cose qui. È un'assurdità che nel mondo del calcio non dovrebbe esistere, speriamo che tutto vada bene per il suo bene, a di là di tutto, ma speriamo che ne venga fuori da una situazione così perché non ha senso per una partita di calcio che succeda questa cosa qui. Preoccupato per, tornando e chiudiamo alla partita di oggi, per il trend di quest'ultimo periodo? No, preoccupazione quando succedono queste partite, c'è sempre, quando finita la partita devi capire perché succede e cercare di porre rimedio perché questo è il compito dell'allenatore.